Per te. Questo. E dove andiamo? Amalfi. Sapete perché Amalfi è famosa per i limoni? Seguite il video per scoprirlo. E se pensate che visitare questa bellissima città a dicembre sia strano, sappiate che io ero in pigiama e con le pantofole. Ovviamente non potevamo non assaggiare la delizia del limone nella pasticceria più storica. E a proposito di limoni, in realtà la prima cosa che gli amalfitani hanno esportato è stato il legno di castagno. Qui era pieno di piantagioni e lo vendevano agli arabi per costruire nave. Il limone è arrivato successivamente, coltivato per apportare vitamine C ai naviganti e tentare di curare allo sgorbuto. Abbiamo anche fatto un giro e visitato il Duomo. Avete notato cosa c'era sul soffitto?